Buonasera a tutti e tutte, siamo all'ultimo dibattito di una lunga serie di dibattiti sono stati oggi al primo giorno del Sharebooks Winter Festival e sono veramente onorato di avere alla mia destra Massimo Carlotto che è uno scrittore di fama internazionale direi, grazie Massimo di essere con noi Luca Dall'Agno il sindacalista di ADL Cobas, questa sera affronteremo un tema che è un caso che conosciamo credo i presenti e le presenti in questa sala conoscono molto bene, che è il caso di Grafica Veneta noi l'abbiamo chiamato il caso proprio quasi in termini provocatori, poi entreremo nel merito del dibattito abbiamo scelto di parlare di questa vicenda anche perché questo festival parla di editoria parla di editoria indipendente, parla in termini più ampi di cultura indipendente ma credo sia interessante capire come in questo mondo poi ci siano tante sfaccettature, tante contraddizioni e quindi entro subito nel dibattito, c'è una categoria che ultimamente va un po' di moda la categoria dell'altrove, cito uno storico dell'ambiente che è Marco Armiero che usa molto questa categoria per le questioni ambientali, quelle legate alla crisi climatica quindi c'è un evento catastrofico, avviene però, lo sentiamo, magari ne siamo solidali capiamo tutte le implicazioni però avviene in un posto lontanissimo, in un altrove questa storia ci parla di un altrove perché nella concezione, nell'accezione comune la vicenda del caporalato è sempre stata vista come qualcosa di estremamente lontano distante in termini geografici ma anche in termini sociali e culturali rispetto al nostro contesto quello che viviamo, quello del nord-est anche se poi dopo Luca ci spiegherà come la DL Cobas invece abbia sempre denunciato le vicende di caporalato però tendenzialmente se pensiamo al caporalato pensiamo a vicende che accadono nelle campagne meridionali oppure che sono accadute tanti anni fa, invece questo altrove ce lo siamo ritrovati in una situazione estremamente contemporanea, poi capiremo perché, alla fine di luglio, metà luglio succede quello che poi vedremo quindi delle persone vengono arrestate se non sbaglio e queste persone appartengono non a un'azienda come dire sconosciuta, una cooperativa ma appartengono a un'azienda estremamente tipica, tipicissima del nord-est che si chiama Grafica Veneta, qualcuno di voi avrà memoria nella fase del primo lockdown il governatore del Veneto Luca Zaia alle prime conferenza stampa, conferenza stampa sventolava queste mascherine con il logo di Grafica Veneta anche poi in termini come dire sostenuti, l'orgoglio del Veneto, invece vedremo oggi come questa vicenda poi nasconde tante altre vicende simili, la questione del caporalato che poi significa sfruttamento, significa schiavitù, ci parla di condizioni di lavoro terribili ma anche poi di vicende che hanno riguardato minacce, violenze anche molto 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 gravi, bene io non mi dilungo perché appunto il caso è un caso ma in realtà non è un caso, è qualcosa che poi ci parla della quotidianità, di quello che viviamo, di condizioni appunto di lavoro perché di quello che vogliamo parlare oggi. Io parto subito con Luca Dallagnol dell'ADL Cobas che è riuscito, è riuscita, il sindacato ovviamente è riuscito a intrecciare, intercettare fin da subito questa questione e a farla diventare una battaglia politica e sociale, quindi entriamo un po' nel merito della vicenda, quali sono anche le tue impressioni e sensazioni sia nella fase iniziale ma anche adesso. Grazie a tutti e a tutte per essere qui questa sera, una serata importante per poter parlare dentro un contesto insomma in cui si parla di cultura e di editoria di Grafica Veneta. Si diceva di un altrove, sì molto spesso si pensa alla questione del caporalato, del grave sfruttamento lavorativo come qualcosa di relativamente lontano, confinato nelle campagne del sud d'Italia all'interno del settore delle industrie agroalimentare. Bene, per un occhio un po' distratto può essere così, mentre per chi come noi ha a che fare con lavoratori e lavoratrici che frequentano tanti posti di lavoro è una questione che invece è strettamente legata anche con le trasformazioni del modello di produzione e anche le trasformazioni del nord est a partire sicuramente dalla fine negli anni 90. Il caporalato è una questione che abbiamo già intrecciato in tantissime altre aziende, anche prima di Grafica Veneta. L'abbiamo intrecciato all'interno di aziende agricole, c'è stata una vicenda nella bassa padovana, un'azienda agricola a tre soldi, ma l'abbiamo visto anche dentro il grande magazzino di Tigotà, una volta Acqua e Sapone, insomma di proprietà di Gottardo dove le stesse dinamiche le abbiamo viste anche in misura maggiore con numeri anche di lavoratori coinvolti anche superiore. Quindi qualcosa che non è lontano da noi, che è presente e convive nel nostro modello produttivo veneto. Questo perché prima di entrare e di parlare di Grafica Veneta? Perché a partire secondo noi dalla fine degli anni 90 con i grandi processi di esternalizzazione e quindi con l'affidamento, con l'appalto di fasi dei processi produttivi a società e soprattutto a cooperative, il fenomeno del caporalato ha trovato un terreno molto fertile. Negli appalti e nelle esternalizzazioni sono stati confinati i lavoratori più precari, i lavoratori più sfruttabili, in particolare i lavoratori migranti e questi più facilmente sono stati, sono rientrati all'interno di queste dinamiche di gravissimo sfruttamento o addirittura di caporalato. Nel caso di, per esempio, del magazzino Gottardo, insomma quello che era Quaisapone una volta, adesso Tigotà, lavoratori che arrivavano direttamente dall'India e che venivano inseriti all'interno del magazzino a lavorare. In questo caso la situazione di Grafica Veneta era leggermente diversa, ma è stato un caso veramente molto grave e molto importante. Perché molto grave? Perché stiamo parlando di un'azienda sicuramente, un player sicuramente fondamentale nell'editoria non soltanto italiana ma europea e ormai anche transatlantica a partire insomma dal 2021 quando Grafica Veneta ha acquisito anche un'importante tipografia negli Stati Uniti che impiega soltanto a tra baseleghe 500 lavoratori dipendenti, che ha un fatturato nel 2020 di cavi attorno ai 160 milioni di euro che sono sostanzialmente duplicati nel 2020 grazie anche non soltanto all'aumento della vendita dei libri ma anche alle mascherine di cui si parlava prima. Quindi un'azienda sicuramente molto importante, molto conosciuta che da un giorno all'altro si è scoperto utilizzare una società che faceva lavorare questi lavoratori per lo più pakistani, una ventina di lavoratori per 12 euro al giorno circa 27-28 giorni al mese pagandoli in media dalle 4 alle 5 euro al giorno. Quindi una situazione veramente molto pesante in cui l'azienda ovviamente Grafica Veneta era a conoscenza delle dinamiche e del livello di sfruttamento visto che comunque l'appalto si parla fosse attorno ai 270 mila euro quindi era perfettamente a conoscenza del grado di sfruttamento a cui erano sottoposti i lavoratori di BMS Services che era questa azienda gestita sempre da pakistani che aveva l'appalto questa fase particolare del finissaggio dei libri. Quindi parliamo della bollinatura, dell'etichetta, dell'inscatolamento. Quindi sostanzialmente ha colpito molto il fatto che si parlasse di un'azienda di punta in cui il presidente era blandito da destra e da sinistra come un imprenditore innovativo, un imprenditore illuminato al punto che anche l'università di Padova gli ha riconosciuto una larga onoris causa che veniva anche indicato come modello di un fare industria che non era più quello strettamente familiare ma era ancora legato direttamente ad alcune dinamiche, alcuni valori. Quindi fino alla fine di luglio veniva sempre portato su un palmo di mano come il modello di eccellenza del nord-est. Bene, con gli arresti del 26 luglio ci siamo resi conto tutti quanti che questo non era, che anche Grafica Veneta voleva ridurre i suoi costi di produzione e l'abbiamo calcolato in 5 anni sostanzialmente ha risparmiato 2 milioni di euro, circa 2 milioni, 2 milioni e mezzo di euro facendo lavorare una ventina di lavoratori in quelle condizioni. Con una idea anche molto ben precisa di segregazione lavorativa per cui dentro i lavoratori diretti in gran parte italiani, lo zoccolo storico dei lavoratori diretti italiani del territorio della zona di Trebasele, quindi lavoratori di questo piccolo comune della provincia di Padova, ma anche dei tanti comuni dei dintorni di Padova perché c'è stata una crescita molto importante anche dell'azienda nel corso dei 2000 e nell'appalto i lavoratori per lo più immigrati, i lavoratori pakistani ma anche poi i lavoratori subsahariani presi direttamente all'interno dei centri di accoglienza. Questo convive, il caso di Grafica Veneto ce lo dice ma è il caso di tantissime altre realtà per partire da questa vicenda per poi allargarci alla questione più generale, è un caso che vediamo molto spesso convive in tantissime altre situazioni dove questa inclusione differenziata di lavoratori italiani, lavoratori migranti, di tutele per determinati lavoratori e sempre meno ovviamente nel tempo e iper sfruttamento di lavoratori migranti è una dinamica che convive. Sapete tutti insomma un po' come è andata, ci sono stati degli arresti, l'amministratore delegato di Grafica Veneta è stato arrestato, il direttore operativo di Grafica Veneta anche, i proprietari di questa azienda appaltatrice pure, è partita un'avvertenza sindacale, una lotta sindacale perché i lavoratori che erano impiegati all'interno dell'azienda sono stati scaricati immediatamente da parte di Fabio Franceschi che ha disdetto immediatamente l'appalto cercando di far finta che molte di queste persone non fossero mai nemmeno entrate all'interno del suo magazzino e si è arrivati anche ad un patteggiamento dove sostanzialmente anche il giudice riconosce una pena che nella sentenza in cui vengono patteggiati sei mesi e una multa di 47 mila euro sostanzialmente il giudice dice che si è arrivati a questa pena perché gli imputati hanno sostanzialmente riconosciuto tutte le accuse che erano state loro mosse. A fianco di questo percorso penale come ADL visto che abbiamo incontrato immediatamente sono venuti da noi gran parte di questi lavoratori abbiamo cominciato una battaglia per chiedere l'assunzione diretta dei lavoratori da parte di Grafica Veneta un'azienda di 500 dipendenti con un fatturato in crescita assolutamente aveva la possibilità di riconoscere un rapporto di lavoro dipendente a questi lavoratori non l'ha voluto fare non l'ha voluto fare dopo tutto quello che questi lavoratori avevano subito iper sfruttamento, violenze, minacce, estorsioni sostanzialmente se ne è lavato le mani dicendo di essere a sua volta oggetto di uno sfruttamento come se tutto questo fosse una cosa che loro non conoscessero, non sapessero di cui avessero avuto paradossalmente notizia solo attraverso gli arresti attraverso la stampa e si è rifiutata, ha cercato di, nonostante le nostre iniziative che abbiamo costruito a partire da fine di luglio, agosto eccetera ha cercato sempre di spostare in avanti una sorta di tentativo di apertura di una trattativa per arrivare ad un minimo accordo si è addirittura non solo rifiutata di riconoscere posti di lavoro a tempo indeterminato ma addirittura proprio di aprire una trattativa seria anche di fronte al prefetto insomma in una sede istituzionale ha sempre in qualche modo giocato ha sempre bleffato, ha sempre raccontato bugie per spostare la palla in avanti siamo arrivati a settembre eravamo addirittura arrivati ad un tavolo in cui attraverso l'avvocato Spata che è uno che è l'avvocato che segue l'azienda per quanto riguarda gli aspetti diciamo lavoristici quasi a definire un accordo il prefetto ci ricontata per il giorno per il giorno seguente nel giro di qualche ora l'azienda si rimangia tutte le promesse rimandando in avanti una ipotetica conclusione chiedendoci di restare in silenzio cercandoci di comprare il silenzio nostro dei lavoratori con pochi spiccioli e rimandando tutto alla fine del patteggiamento questo per dire delle intenzioni dell'azienda che non ha mai voluto, mai voluto riconoscere questi lavoratori ad oggi dopo quello che è successo quindi dopo questi passaggi per cui in prefettura l'azienda ha fatto saltare i tavoli ha rimandato alla fine del patteggiamento fine del patteggiamento che è avvenuto l'azienda ad oggi continua a non voler riconoscere questi lavoratori anzi come loro lavoratori sostanzialmente dipendenti anzi abbiamo letto e ne parleremo anche dopo dichiarazioni veramente molto pesanti da parte del presidente Franceschi che sostanzialmente ha dimostrato la sua essenza di imprenditore padronale razzista che voleva questi lavoratori soltanto nel silenzio nell'iper sfruttamento confinati dentro quegli spazi questa è la situazione ad oggi ad oggi abbiamo in piedi delle cause ad oggi stiamo continuando a denunciare il comportamento di Grafica Veneta stiamo continuando a costruire delle iniziative anche di natura sindacale e lo faremo sempre di più anche nelle prossime settimane perché per noi l'avvertenza non è chiusa perché per noi questi lavoratori devono essere assunti direttamente da Grafica Veneta intanto ti ringrazio Luca per la descrizione puntuale che hai fatto di questa vicenda come abbiamo visto è una vicenda complessa anche per aver messo in luce oltre agli aspetti legati allo sfruttamento alle cause che sono in atto anche l'arroganza padronale che credo sia uno dei temi più sconvolgenti tra virgolette di questa vicenda vengo a te Massimo perché tu sei stato il primo a mobilitarti tra l'altro facendo un appello credo agli inizi d'agosto lo leggo testualmente la parte in fondo editori, scrittori, librai e lettori questo è un aspetto a mio avviso molto importante devono schierarsi a fianco di questi lavoratori e sostenere le loro rivendicazioni contratto a tempo indeterminato per tutti pagamento degli stipendi arretrati tutele per i documenti e per la casa e l'appello tra l'altro incitava ad andare oltre lo sdegno quindi non solo nella dimensione come dire di sdegno iniziale ma come dire mettiamoci un po' in marcia tra l'altro anche in una recente intervista esortato al fatto che come diceva anche Luca questi lavoratori devono quantomeno essere assunti e io vorrei che ci spiegassi le ragioni di questa presa di posizione che non è solamente come dire di cuore una presa di posizione molto precisa abbiamo letto i punti dell'appello molto puntuale con delle rivendicazioni precise questa presa di posizione che ci riporta un tema che abbiamo in parte discusso anche in altri dibattiti cioè questa idea un po' romantica direi anche se è passata che però come dire ci parla dell'impegno del rapporto tra la cultura e il mondo della cultura tu sei come dicevo uno scrittore come è noto uno scrittore di fama internazionale quindi tra il mondo della cultura e l'impegno sociale e politico dobbiamo dimenticarci da quest'idea romantica del rapporto tra cultura e solidarietà nel mondo del lavoro la storia di questo appello secondo me è molto interessante perché ha messo a nudo tutta una serie di contraddizioni nel mondo della cultura allora quando è venuta fuori la notizia di Grafica Veneta il mondo degli scrittori diciamo di sinistra siamo rimasti un po' così sempre i soliti poi quelli che hanno firmato l'appello per fortuna è arrivata l'indicazione dalla DL Cobas della possibilità di essere concreti attraverso il discorso dell'appello quindi l'ho scritto e l'ho diffuso allora andiamo per ordine il mondo del lavoro la fabbrica è stata espulsa da tempo dal mondo della cultura italiana non esiste più non esiste più una narrazione del lavoro e questa è stata una scelta precisa già da moltissimi anni e l'abbiamo visto proprio col caso Grafica Veneta nel senso della mancata risposta lo sdegno no, andiamo oltre lo sdegno lo sdegno dei soliti 40 perché nel mondo della cultura soprattutto l'editoria questo sdegno non c'è stato il silenzio è stata una rivendicazione delle stranità al mondo del lavoro non c'entra più niente il lavoro il lavoro è un'altra cosa questa è questa secondo me questa storia dell'appello è importante per questo perché ha messo a nudo una contraddizione evidente nel senso che il mondo dell'editoria ha detto sono cazzi loro e noi non ci riguarda assolutamente perché? perché il fatto di avere espulso da tempo il lavoro la fabbrica dalla narrazione significa di fatto impedire prese di coscienza questo è lo vediamo con grande chiarezza sulla questione dei gli incidenti sul lavoro la morte sul lavoro no? si vede con grande chiarezza tu proponi un libro sotto la qua ti dicono ma sei matto non legge nessuno una palla no? una palla perché? perché parlare oggi del lavoro ci deve pensare il Corriere della Sera oppure Repubblica che se muore qualcuno no? un operai in una fabbrica loro fanno il pezzo di colore perché le morti sul lavoro oggi sono quello sono colore questo è un ragionamento che noi dobbiamo fare mi sono perso i dibattiti oggi ma su questo noi dobbiamo ragionare perché dobbiamo ricostruire un tessuto narrativo che comprenda il lavoro dopo la storia dell'appello quando c'è stato l'appello siamo stati sempre i soliti neanche tutti scrittori perché ha affermato Daniele Vicari vabbè Diaz sappiamo il giro dei compagni quel giro lì che quando moltissimi altri autori che notoriamente votano a sinistra anche più a sinistra del PD non hanno firmato non hanno firmato due settimane dopo un appello non mi ricordo più su cosa ma una cosa che riguardava l'Africa 630 firme discorso dell'antrove discorso dell'antrove è un discorso assolutamente realistico per cui ha aperto in parte una contraddizione all'interno del nostro mondo ma gli editori hanno fatto blocco semplicemente stando zitti gli autori sono stati zitti è stato un silenzio di rivendicazione in questo senso continuare a riproporre questa battaglia su grafica veneta è fondamentale perché è un senso di ripartenza della possibilità nel mondo degli autori ma nel mondo dell'editoria in generale di riprendere coscienza del lavoro io ti ringrazio Massimo e tra l'altro vorrei proseguire su questo discorso magari anche allargandolo e faccio un appello allargandolo anche ai tanti editori editrici insomma nei casi editrici che sono presenti qua stasera io però adesso vorrei introdurre un'altra questione a me francamente c'è una cosa della vicenda che mi ha colpito tantissimo facendomi male ma anche facendomi tanto arrabbiare oggi abbiamo affrontato il tema della rabbia e c'è stata lo accennava Luca prima ci sono state queste dichiarazioni del presidente l'amministratore delegato se non sbaglio il presidente di Grafica Veneta Franceschi che a un certo momento dichiarazioni riprese dalla stampa nazionale tra l'altro oltre ai soliti libero anche dalla stampa anche da altri giornali in cui sostanzialmente il presidente dice vabbè comunque sì li abbiamo sfruttati non dice questo però lo sottintende ma comunque erano li avete visti le loro facce erano sporchi quindi allude a una dimensione razzista razziale oggi abbiamo parlato del privilegio della questione della razzializzazione che è un tema estremamente importante nella nostra società allora mi chiedo ma è possibile nel 2022 che ci sia un'arroganza così forte che è determinata dal privilegio in questo caso bianco e padronale che permette addirittura di mistificare e manipolare la realtà questa credo sia una cosa assurda eppure in questo caso nel caso di Grafica Veneta abbiamo avuto anche questo questa è una domanda che rivolgo a entrambi decidete l'ordine in cui rispondere una volta si chiamava la protervia dei padroni no? questo Franceschi è stato esattamente quello quando ho letto gli articoli della segna stampa in particolare l'articolo intervista sulla stampa stampa di Torino mi sono detto questo si è dato la zappa sui piedi invece no invece no perché Franceschi ha parlato alla sua gente che non siamo noi nel senso che ha parlato a quell'elettorato lui è il fiore dell'occhiello di Zaia il fiore dell'occhiello dell'industria veneta e quindi lui ha parlato quel mondo ha parlato cos'è che sono stati primi a la sindustria no? quelli che l'hanno erano loro no? giusto la sindustria che hanno fatto quel primo comunicato in appoggio a Franceschi vabbè comunque ha fatto si è rivolto a loro ed è stata una mossa molto intelligente perché si è schierato e ha fatto schierare ha usato quel tipo di linguaggio che fa breccia in un certo tipo di persone per cui il fatto che questi no lavoratori non si lavano eccetera eccetera fa parte di quell'immaginario collettivo che oggi permette da tanti anni che la Lega comandi in questo territorio aggiungo una cosa secondo me quell'intervista la invece ha palesato proprio ha messo in luce il razzismo per com'è Franceschi da padrone razzista ha detto ma scusa io vi ho fatto vi ho dato il lavoro cioè siete immigrati pakistani venite qua io vi metto dentro in una fabbrica a lavorare e voi venite e mi chiedete diritti salario eguaglianza rispetto agli italiani qua qui c'è stata la rottura e là l'ha evidenziata loro stavano bene quando stavano dentro in fabbrica a lavorare 12 ore pagati 4 euro dentro una casa in cui vivevano in 20 pagando 120 euro non perché gli piacesse ma per necessità perché erano obbligati a stare in quelle condizioni quello era il loro posto quello è l'inclusione differenziata quello è il razzismo loro hanno rotto quel patto che permette con la complicità anche di lavoratori italiani con la complicità diciamolo anche del sindacato dell'SLC che c'era dentro e che vedeva quei lavoratori da 5 anni lavorare 12 ore al loro fianco in cui e dove nessuno ha detto nulla perché andava bene così perché gli italiani vanno bene o comunque i bianchi vanno bene a lavorare 8 ore nei turni normali loro dovevano lavorare 12 ore e guadagnarsi il loro diritto a stare in Italia in questo modo quando hanno rotto questo patto razzista Franceschi non ci ha più visto Franceschi ed ha fatto venire fuori in quelle esternazioni la sua vera essenza l'essenza razzista padronale che prevede che questi lavoratori debbano vivere in queste condizioni se non gli va bene questo patto devono andare fuori e devono essere additati per quello che sono anche perché non si crei quel collegamento quel come dire riconoscimento di interessi materiali che ci possono essere con i lavoratori italiani perché questo è il razzismo e in quell'intervista io ho visto proprio messo nero su bianco il meccanismo di base del razzismo che sostanzialmente è questo è controllo segregazione stratificazione sociale comando sul lavoro quell'intervista secondo me ha chiarito veramente ma veramente come un manuale di sociologia che cos'è il razzismo si la mancanza di riconoscenza da parte dei lavoratori è stato il dato vincente di quella di quell'intervista quella che ha fatto breccia ci sono stati più più like a favore nel mondo di facebook che conto perché appunto svela una dimensione razzista che fa parte in maniera la sede della nostra cultura io vi ringrazio entrambi tra l'altro mi permetto di fare un piccolo inciso sulla questione che dicevate tutti e due quando si rompe un patto è un po' quello che è successo in questi giorni con gli studenti e le studentesse in piazza fino a quando vedevamo i servizi un po' il piagnisteo anche sulla Rai di questi poveri studenti in dad quando poi vanno in piazza li bastonano però fortunatamente c'è anche il coraggio poi di andare avanti e di andare oltre le cariche che ormai insomma sono note dell'accelerare questo era semplicemente un inciso io prima di allargare mi piacerebbe anche allargare abbiamo la possibilità e mi piace questo dibattito quindi abbiamo la possibilità di allargare il discorso vi faccio però una domanda flash parto dal titolo dell'appello di Massimo Carlotto oltre lo sdegno bene come possiamo qua siamo in un centro sociale un centro sociale che è uno spazio un luogo libero ma anche un luogo di organizzazione di movimentazione sociale come lo è l'ADL come lo sono tanti altri posti bene oggi come possiamo e dove possiamo andare oltre lo sdegno queste domandine così grazie Massimo tra amici no ovviamente bisogna andare oltre lo sdegno lo sdegno secondo me è sicuramente una come dire un sentimento giusto sano che però se non trova come dire delle forme di azione di organizzazione di trasformazione si trasforma in frustrazione io penso che di fronte a queste situazioni non possiamo semplicemente mettere un like su facebook scrivere tre righe fare una foto invitare ad azioni che in qualche modo insomma dovrebbero andare a colpire diciamo queste aziende oppure invocare grandi leggi io credo che di fronte a queste azioni bisogna mettersi in gioco ognuno deve capire rispetto alla propria situazione quello che può fare quello che può dare partecipare alle iniziative ma anche se chi lavora come Massimo nel mondo della cultura attivarsi attivare i propri contatti costruire delle dinamiche positive conflittuali che creino dei problemi e che facciano come dire emergere il caso anche a livello nazionale portarlo fuori insomma dalle dinamiche locali che stiamo vivendo ed organizzare ed organizzarsi dove è possibile sembrano parole così un po' astrate però io penso che rispetto a questo dobbiamo veramente pensare che se non vogliamo vivere delle vite frustrate in cui continuiamo a indignarci per una società che peggiora ci appare ogni giorno più brutta dove ogni giorno viviamo lo sfruttamento dove viviamo un cambiamento delle nostre città dei nostri ambienti di vita che diventa sempre peggiore sempre più imbivibile bene se non riusciamo a trovare dei momenti per organizzarci io credo che non soltanto non cambiamo la vita attorno a noi ma viviamo anche una vita molto ma molto più brutta ma non posso essere che estremamente d'accordo con quanto ha detto Luca sulla parola sdegno indignazione dobbiamo fare un ragionamento perché il senso della parola indignazione è cambiato proprio da un punto di vista antropologico nel senso che oggi l'indignazione per esempio è il meccanismo principale delle fake news se tu pubblichi sui social una notizia falsa che suscita indignazione si scatena l'inferno e il falso rimane per sempre l'indignazione oggi è uno strumento attraverso cui c'è una sorta di controllo massa come ho detto questo e quindi voglio dire dal punto di vista dobbiamo fare no no adesso funziona io per esempio sulla questione oltre allo sdegno ho un problema molto preciso come autore come professionista che lavora all'interno del mondo dell'industria culturale non ho casa non ho casa dove poter concepire un tipo di vita di attività che sia in funzione di una radicalità di una vita altra non c'è non esiste più per cui ho la necessità di trovare altre figure o di trovare spazi in cui stare e questa è una situazione che è molto diffusa non solo tra le persone quindi quello che diceva Luca io sono estremamente d'accordo è arrivato il momento di metterci la faccia nel senso di essere presenti di essere e da lì da ricostruire molto faticosamente perché sappiamo benissimo qual è la situazione però dobbiamo ricostruire un percorso Io ringrazio entrambi e vi faccio l'ultima domanda però faccio un appello prima di questa ultima domanda perché mi piacerebbe davvero ci piacerebbe allargarlo il dibattito come dicevo prima qua ci sono editori ci sono autori ci sono persone che lavorano nel mondo della cultura e proprio parto da questo noi e parto anche dagli intenti che ci hanno spinto a organizzare questo festival dopo tre anni dopo una pandemia di due anni perché ci siamo chiesti che cos'è l'editoria cercavamo di coglierla anche su varie prospettive e in generale io credo che ci sia una questione in questo paese non solo in questo paese ma in particolare in questo paese che riguarda l'industria della cultura e il mondo culturale noi siamo pieni di slogan che ci dicono in Italia potremmo mangiare di cultura la cultura è il terreno su cui dobbiamo sviluppare il nostro futuro però quanto è contraddittorio questo quanto poco si parla invece della produzione culturale in termini anche di filiera lavorativa in termini di filiera di sfruttamento e questo è il tema che a mio avviso dobbiamo provare ad affrontare anche in un festival come questo che parla di editoria indipendente quindi di comunque case editrici che hanno un altro orizzonte sicuramente non quello dello sfruttamento delle persone però credo che questo sia un problema una questione noi siamo quasi obbligati a farla diventare mainstream un po' Luca è stato protagonista insieme a tanti altri anche sono presenti qua stasera delle mobilitazioni all'interno del mondo dello spettacolo più o meno stiamo parlando della stessa cosa bene io questo vorrei chiedervi a tutti e due stasera e con questo con questa domanda spero anche di aprire il dibattito al pubblico presente sappiamo benissimo l'editoria il mondo del lavoro della cultura è un settore in cui il lavoro precario sottopagato il lavoro gratuito è ampiamente diffuso anch'io ho lavorato questo è un dato mio personale per una società di distribuzione legata a messaggerie distribuzione legata alla grande distribuzione dove veniva pagato a provvigione come tantissime tantissime persone che lavorano all'interno di questa filiare credo che sia uno dei comparti insomma dove i livelli di sfruttamento siano più più alti e in tutti gli ambiti per cui abbiamo a che fare dagli editor i correttori di bozzi grafici illustratori e chi lavora nella promozione nella distribuzione nella logistica l'abbiamo visto il grande magazzini la città del libro insomma i facchini tutto questo mondo di gravissimo sfruttamento non si vede però continua a riprodursi con livelli veramente molto pesanti ad esempio ACTA che è un'associazione che organizza insomma lavoratori del terzario avanzato ha fatto una ricerca proprio sui lavoratori della cultura e ha mostrato come tra i freelance che sono tantissimi che lavorano nell'esternalizzazione insomma delle case editrici e fanno tutti quei lavori fondamentali insomma perché i libri abbiano un livello di qualità che che gli permetta insomma di essere venduti mediamente questi freelance lavoratori autonomi fatturano attorno ai 15.000 euro fatturare 15.000 euro significa essere veramente poveri significa avere in tasca meno di 10.000 euro 8.000 euro all'anno quindi stiamo parlando di persone lavoratori poveri la domanda è come si regge in piedi questo sistema di ipersfruttamento di lavoro gratuito semi gratuito eccetera quello che secondo me per due motivi che poi si intrecciano secondo me la la nobiltà dell'oggetto libro in qualche modo della cultura in generale tende a nascondere queste situazioni di ipersfruttamento a proteggerle a creare a metterle nell'ombra dall'altro attorno e lo sappiamo benissimo attorno al mondo della cultura funziona questo meccanismo di economia della promessa per cui i lavoratori che ci lavorano all'interno attorno alla oltre alla gratificazione diciamo simbolica di lavorare per questo mondo in cui gli oggetti sono nobili in qualche modo vengono presunti nobili hanno una sorta di riconoscimento simbolico ma c'è una promessa anche di stabilizzazione che viene creata attorno di stabilizzazione di contratualizzazione attorno a questo tipo di attività che si continua a riprodurre dicendo facendo immaginare una gavetta che sappiamo benissimo che sarà una gavetta che probabilmente non avrà mai mai fine perché è così perché è così che si stanno costruendo questi mondi mondi del lavoro dove il lavoro gratuito viene sempre più la sfera del lavoro gratuito viene sempre più allargata pensiamo al mondo anche dei musei della cultura ovviamente del mondo dello spettacolo come dire l'abbiamo visto semplicemente per il fatto di dover lavorare nello spettacolo ti dovrebbe rimborsare di tutto il tuo studio di tutta la tua fatica dovrebbe essere una remunerazione sufficiente ma dall'altra anche c'è questo meccanismo di economia della promessa che è una promessa in qualche modo indiretta per cui i contatti che te avrai ti permetteranno poi di crescere di poter inserirti da altre parti e di poterti in qualche modo dar senso alla tua vita dove sappiamo benissimo la domanda sociale anche che lavoro fai dentro il neoliberismo è diventata una domanda ormai tossica che troviamo sempre che ci viene riproposta che il senso che rappresenta che in qualche modo rappresenta la nostra identità e queste sono dinamiche che dentro il mondo della cultura dello spettacolo troviamo troppo troppo spesso e che si stanno riproducendo dobbiamo assolutamente come dire disvelarle come prima cosa cioè renderle manifeste dircelo e poi dobbiamo cominciare ad organizzarci e far sì che anche questi lavori sottopagati vengano riconosciuti come occupazioni formali che devono essere pagate con contratti dignitosi regolari e con minimi salariali degni che ci permettano di poter vivere questa è la condizione nel mondo della cultura nel mondo della produzione editoriale nel mondo dello spettacolo ed è una cosa sulla quale non possiamo più far finta che non possiamo più far finta di non vedere che dobbiamo sollevare diceva giustamente Antonio il mondo dei lavoratori dello spettacolo hanno cominciato un percorso da questo punto di vista molto importante dove si è cominciato a rivendicare salari contratti regolari e un riconoscimento formale di un lavoro di un lavoro che non è che come tutti gli altri lavori che anche se dentro in contesti veri o presunti nobili deve essere remunerato non basta non basta la remunerazione simbolica per poter vivere in questo mondo ecco a partire dal ragionamento di Luca provo a suggerire un altro tipo di ragionamento per ampliare il campo dell'analisi l'editoria è un'articolazione di una industria culturale che è molto più ampia ma quanto ampia è nel senso che le stesse problematiche si ripropongono ovunque innanzitutto oggi non si può più parlare di industria culturale senza includere la comunicazione è la stessa identica industria quindi cultura e comunicazione sono un'unica cosa e comprende tutto nell'editoria comprende anche il critico che ti fa chi organizza i festival di letteratura tutto quel mondo lì fa parte della stessa industria culturale lo stesso vale per il teatro per il cinema eccetera eccetera e possiamo calcolare in Italia circa 3 milioni di persone che stanno all'interno di questo mondo assolutamente disorganizzate che non hanno nessun rapporto tra di loro ma questo esiste perché c'è questo c'è stata questa grande fusione tra industria culturale e comunicazione per neutralizzare la narrazione in generale di tutte le forme artistiche perché oggi tu puoi se uno va da Mondadori dice voglio scrivere un libro che parli malissimo in ogni riga di Berlusconi ti guardano in faccia e dicono tu vendi totto d'accordo facciamo il contratto perché il problema non è più quello che scrivi ma come viene assorbito nel senso che oggi qualsiasi forma di narrazione anche altra viene assorbita da questa macchina e questo secondo me è un ragionamento che dobbiamo fare perché è estremamente importante c'è la questione del lavoro c'è la questione della remunerazione ma c'è anche un discorso che bisogna dire vogliamo stare all'interno di questo mondo oppure ci stiamo ma magari costruiamo altri percorsi perché il problema è questo se in questo paese è tutta una serie di tematiche non vengono fuori la gente non le capisce no è perché c'è una narrazione tossica l'abbiamo visto col covid l'abbiamo visto su tante cose l'abbiamo visto sul lavoro il problema di porci il problema oggi su tutte le forme artistiche di modificare la narrazione significa avere dei luoghi dove tu la stessa narrazione che hai in quel mondo lì dell'industria culturale la porti fuori dal mondo culturale e la esamini la discuti la analizzi in altri ambiti per costruire tessuto perché il problema è questo questa industria culturale sta impedendo di costruire un tessuto altro in grado di cambiare le cose in questo paese lo sapevamo già perché ce l'avevano già detto è chiaro che la macchina è una macchina del consenso il capitale il neoliberismo ha bisogno della macchina del consenso ma la macchina del suo consenso è questa non sono altre è questa che è una macchina estremamente complessa ma se tu non impari a capirla ad analizzarla e anche a combattere attraverso altri modi non ce la farai mai nel senso che bisogna porsi il problema di una cultura altra che deve essere radicale autonoma ribelle beh io credo che quest'ultima frase di Massimo meriterebbe probabilmente un altro dibattito e sicuramente anzi lo opzioniamo per il prossimo festival di Sherwood questo tema che credo che sia un tema assolutamente centrale io però rinnovo l'invito credo che di spunti ne abbiamo tantissimi a partire dal caso di Grafica Veneta ma non solo stiamo parlando dell'oggi della contemporaneità di cose che si parla non solo all'interno di questo festival quindi mi piacerebbe raccogliere un po' di contributi non so se la regia mi deve dare indicazioni di carattere tecnico ok quindi ecco vengono lì ok quindi invito davvero ad arricchire questo dibattito già molto 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 bello allora io volevo dire questo come ex insegnante in pensione che molto di tutto questo che è stato detto e che io condivido al 100% comunque ha la sua origine dalla scuola e dall'insegnamento non so se ci sono qui altri insegnanti come me io sono in pensione però da poco e penso che sia il discorso che ha detto Massimo che è importante sulla narrazione qualsiasi sia la narrazione cinematografica letteraria poetica comunque la narrazione è qualcosa che deve entrare nelle vene e non ci deve lasciare perché deve essere qualcosa di profondamente interno ai nostri bisogni i nostri veri bisogni sono di avere una narrazione di qualità e di alta qualità dopodiché ovviamente è necessario spiegare cosa c'è dietro alla possibilità che questa narrazione ci venga venga da noi e questo passa anche attraverso il lavoro di fabbrica il lavoro di tipografia il lavoro di revisione delle bozze il lavoro di che ne so di montaggio degli elettricisti c'è il cinema quindi è un contributo che non so se serve però voglio dire la scuola deve essere comunque un momento fondamentale per poi arrivare in piazza a gridare che tutto questo non si fa ed è profondamente ingiusto sì allora intanto è difficile aggiungere delle cose a quello che è già stato detto dato che sono state dette anche tante cose e tanti argomenti su cui sicuramente chi ha parlato adesso ci ha pensato più di me quindi delle cose più interessanti quindi perdonate se divago e non sapendo da dove cominciare parto dalle basi e a un certo punto non so dove Marx dice che il mondo è un enorme accumulo di merda di merci le merci sono tutte uguali in quella visione e le merci spesso sono uguali anche qui nel nostro lavoro nel lavoro dei ragazzi pakistani e africani che lavoravano in grafica veneta e è uguale al lavoro dei ragazzi che lavorano nei campi è uguale per molti aspetti è uguale nel salario il salario dei lavoratori di grafica veneta è esattamente uguale e segue esattamente lo stesso percorso di aumento tra virgolette da 4 a 4 e mezzo euro all'ora dei lavoratori delle campagne della bassa padovana le condizioni di vita sono esattamente le stesse vivono in caserme sostanzialmente in queste case che non sono neanche soprattutto quella di grafica veneta orribili dal punto di vista igienico sanitario cose del genere sono semplicemente delle caserme non sono case sono delle caserme dove vivono i soldati della produzione delle merci e né più né meno insomma questo è la loro essenza e la fabbrica la fabbrica della cosa la fabbrica dell'oggetto culturale la fabbrica dell'oggetto alimentare la fabbrica dell'oggetto che veste la finfina da questo punto di vista non ha una grande differenza nonostante l'immaginario la vicenda di grafica veneta ha colpito ha sfondato tutte le televisioni i giornali perché 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 c'era Franceschi con zaia con le mascherine con le orecchie di elefante e quindi era la sua nemesi ma a parte questo la realtà è che non c'era una grossissima differenza e non c'era una grossissima differenza tra quello che è successo lì quello che è successo nei ricicli della spazzatura non so dieci anni fa c'era il centro di riciclo a Monselice non so se vi ricorda qualcosa era la stessa cosa se non peggio c'era il centro di riciclo in Corso Francia a Padova uguale se non peggio ci sono le cartiere ci sono le zone di riciclo della spazzatura plastica a San Drigo uguale se non peggio ok semplicemente ha fatto un grande effetto per la per la particolarità di Franceschi e per la sua capacità di darsi di dire cose orribili nei giornali e semplicemente ha sfruttato quella che è la la vita e la rappresentazione di quello che deve essere il lavoratore secondo l'ideologia produttivista del Veneto ci sono degli interrogatori che sono esileranti se non fossero drammatici della capofficina di Franceschi che dice io sì io sono contenta perché io sto là 12 ore al giorno ed è bello perché sa io non ho la famiglia io non ho famiglia io sono sola io sono felice e vado in fabbrica e questa poveretta questa poveretta è ciò su cui si fonda quella fabbrica e il consenso di Franceschi nella gente purtroppo e quelli che gli mettevano i like come diceva Massimo quando lui dice che questi pakistani puzzano pure e vogliono pure lavorare cioè la signora la signora gli dava da vivere i pakistani che puzzano pure insomma gli dava pure il lavoro 12 ore dovrebbero essere contenti e questo con questo cosa voglio dire voglio dire una cosa sì proprio dalla coscienza di questo dalla chiara coscienza di questo viene il fatto che noi possiamo capire che non è che per il mondo culturale il mondo della produzione della cultura il mondo dello spettacolo il mondo della comunicazione c'è una costruzione diversa rispetto a quella che è la teoria del nostro conflitto è anche la pratica del nostro conflitto secondo me in quanto altro non sono che delle specificazioni fattuali di una riproduzione della merce del capitale e il nostro la nostra capacità secondo me deve essere di capire che non è il mondo a parte non è l'altrove adesso non scappate che diciamo ah cazzo la grafica veneta non è l'altrove ma è la nostra vita merda è forse meglio prendere la porta perché parlare del nostro fa schifo ma proprio essere qui e da qui diamo la dimostrazione che non deve essere l'altrove ma deve essere la nostra realtà di azione ecco ok grazie ci sono altri interventi domande intanto mi dicono dalla regia che sono molto belle le pose che state assumendo quindi possiamo anche immaginarci la prossima volta dei talk fatti in un altro modo allora una settimana fa ho letto un'intervista allo scrittore parlo da lettrice non da editrice e sono rimasta tutta la settimana male con questa sensazione che non c'è possibilità stasera sento Massimo Carlotto invece molto più un'altrove o i ribelli adesso non so più cioè sono contenta però è una settimana che dico non c'è speranza allora da 0 a 100 c'è speranza o no di trovare questa casa diversa e mi ricordi cosa ho detto nell'intervista sulla stampa sull'inserto tutti i libri ah sull'inserto sì era un po' spiazzante ma no in realtà io mi considero da sempre un seguace di Sciascia Sciascia diceva io scrivo male della mia terra Sicilia come atto di estremo ottimismo noi noiristi usiamo il crimine come scusa per raccontare tutto quello che ci sta intorno nella speranza del cambiamento noi raccontiamo le contraddizioni e approfitto di questo per allargare il discorso su come si riesce ad assorbire i contenuti nel senso che i noir sono sempre delle denunce molto precise dal punto di vista sociale però tu leggi le recensioni questo non c'è mai ci sono gli aspetti legati alla dimensione squisitamente letteraria sul resto e questo secondo me dimostra proprio alla grande che ormai la questione dei contenuti è una questione centrale che comunque dobbiamo anche affrontare perché noi siamo dei fruitori noi stessi tutti noi stessi siamo fruitori di cultura ma secondo me non abbiamo ancora la sensibilità per capire quanto siamo ingannati da questo meccanismo quanto ci auto inganniamo perché siamo all'interno di questa narrazione comunque per finire per rispondere io sono assolutamente ottimista non sarei qua adesso c'è ancora spazio per qualche altro commento e o domanda si parlava prima della presa di posizione anche degli autori però mi chiedevo al di là dell'appello che non è stato un semplice appello è stato anche molto importante mi chiedo se si possono fare scelte più consapevoli prese di posizione magari decidendo di pubblicare con case editrici diverse nello specifico volevo fare una domanda provocatoria e chiederti come mai Massimo hai pubblicato con Mondadori il tuo ultimo libro con Mondadori l'ultimo libro Rizzoli il penultimo e con con Inaudi sono la stessa casa editrice alla fine sono lo stesso lo stesso gruppo per due discorsi una cosa questo ritorna un dibattito fatto tra autori sinistra di molti anni fa dicendo non possiamo essere relegati a determinate case editrici che non hanno distribuzione perché se no alla fine non sei in grado di incidere di raccontare qualcosa questo è fondamentale e questa è una scelta che abbiamo fatto moltissimo tempo fa ma per il discorso che facevo prima su come c'è questa capacità di assorbire i contenuti e renderli ininfluenti poi pubblicare con qualsiasi case editrice non cambia assolutamente nulla perché è la relazione poi con il lettore che cambia su questo io preferisco pubblicare con Mondadori Rizzoli io pubblico con E.O. io non ho mai avuto problemi a pubblicare con nessuno per esempio ho pubblicato recentemente un graphic novel con Fettinelli e Fettinelli l'ha stampato a grafica veneta non c'è su questo non hai nessuna possibilità di incidere quindi giustamente provocatoria perché molte volte possiamo dire non solo a me ma anche per esempio di un dibattito con i WMG su una questione con i Naudi eccetera eccetera è così sei all'interno di un'industria noi siamo professionisti all'interno di un'industria culturale siamo esattamente quello grazie mi riallaccio proprio su quest'ultimo punto sulla provocazione precedente provo a lanciarne una ulteriore condivido molto quanto è stato appena detto però mi chiedo da giovane e totalmente ininfluente autore se poi una delle questioni che hanno a che fare anche con quello che si diceva con l'economia politica della promessa non sia anche una questione di come dire per chi opera all'interno dell'industria culturale farla finita con il proprio capitale culturale cioè farla finita con quella parvenza che non si sia lavoratori e lavoratrici come coloro che si trovano in tutti gli altri settori in qualche modo io penso che anche per chi appunto entra in qualche modo in questo mercato in questa industria così da persona che comincia in qualche modo a contribuire in maniere molto precarie che ben sappiamo con tutti insomma gli assi di oppressione che si intrecciano la faccenda di Grafica Veneta ce lo ricorda una volta di più alle volte ha qualcosa che sta in mezzo tra il pudore e il narcisismo nel ritenersi come dire qualcosa di diverso non di più ma sicuramente di diverso rispetto appunto al raccoglitore di pomodori nelle campagne scrivere libri come dire anche poi nel rapporto che si può avere con quelli che sono appunto i propri editori parlo di questa realtà perché è quella che conosco meglio ma questo vale per tutta l'industria culturale porta sempre comunque a rapportarsi con quelli che sono i mezzi e i rapporti di produzione con come dire un certo livello di negazione mi verrebbe da dire anche magari l'autore che pubblica con il grande editore con questa prospettiva come dire strategica che io condivido mi chiedo quanto pensi al proprio editore in termini di un padrone in qualche misura perché tecnicamente lo è cioè è colui che detiene i mezzi di produzione oppure penso a quanti giovani autori magari pur di come dire entrare dalla porta di servizio dell'industria culturale e comunque ammantino la propria esperienza sottopagata di lavoro gratuito precaria di come dire un alone un'aura appunto di vogliamo chiamarlo lavoro di cura le compagne femministe ci direbbero lavoro d'amore in qualche modo facciamo una cosa nobile facciamo una cosa alta che quindi è diversa io penso allora che appunto da persona totalmente irrilevante all'interno dell'industria culturale che ce n'è entrata da poco io penso che allora forse una di quelle pochissime cose di quei pochissimi privilegi ancora da mettere in gioco che però varrebbe la pena di mettere in gioco credo anche poi ovviamente per autori poi più affermati sia appunto proprio quella che Bourdieu chiamava la distinzione in qualche modo illuderci che come dire le merci che noi produciamo o comunque con cui lavoriamo abbiano qualcosa di qualitativamente talmente superiore rispetto ad altre merci che in qualche modo ci pongano in una sorta di campionato a parte e quindi ricominciare a dire per chi appunto fa l'autore per chi fa il creatore di contenuti che effettivamente lo si fa perché ci si crede perché insomma si crede anche in una funzione emancipativa della cultura ma che questo condanna alla povertà dire per un autore anche ho scritto questo libro magari bellissimo sta anche andando bene io però sono molto povero perché insomma l'editoria funziona così i soldi non me li prendo io il cinema il teatro quello che è piuttosto che per il grande autore sapendo che tanto appunto non conta il contenuto ma conta la narrazione complessiva e allora cominciare anche a riassumere un qualche tipo di antagonismo nei confronti di chi detiene i mezzi di produzione tanto il mio editore insomma pubblica i miei libri perché si vendono benissimo e quindi tanto che li pubblica lo stesso anche se il loro contenuto in qualche modo è polemico allora tanto vale come dire cominciare a forse irrigidire certi rapporti all'interno come dire appunto la sindacalizzazione è un modo in qualche modo per creare conflitto anche in quei in quei contesti dove il conflitto magari sembra appunto qualcosa che viene meno una certa buona educazione in qualche misura e quindi forse da parte di chi opera mi dico all'interno di quest'industria invece sottolineare la propria vicinanza sottolineare l'essere sullo stesso livello sulla stessa barca con gli altri lavoratori e gli altri lavoratrici degli altri settori di cui parlavamo prima rinunciando anche come dire quasi a quella giusto quella parvenza d'immagine quella distinzione quella cosa che dice sì anche noi siamo poveri anche noi siamo sfruttati però lavoriamo noi in questo contesto e se rinunciassimo anche a quest'ultima parvenza se lasciassimo come dire squarciare anche quest'ultimo io dicessimo che anche noi produciamo delle merci che sono come delle altre merci che i nostri editori piuttosto che altri sono spesso anche i nostri padroni vengono in mente il titolo del libro di Marta Fana di qualche anno fa dice non è lavoro e sfruttamento Cristina Morini ne pubblicò una bella recensione sul doppio zero dicendo ma il lavoro salariato è sempre sfruttamento ci sono dei lavori dove lo sfruttamento magari è maggiore ma nel capitalismo il lavoro salariato in qualche modo è sempre sfruttamento quindi ripartire dal punto della consapevolezza che comunque c'è uno sfruttamento almeno che non ci creiamo dei modi altri può essere la cooperazione può essere un tipo di produzione dal basso e lì allora ragionarci però tutto il resto è sfruttamento e ricominciare a chiamarlo sfruttamento tanto l'editore magari ci pubblicherà lo stesso perché gli venderemo le copie e quindi comunque la narrazione non sarà scardinata da questo però cominciare forse a far cadere anche quest'ultimo velo mi verrebbe da dire far capire che anche rispetto agli altri sfruttati e alle altre sfruttate noi non ci abbiamo proprio niente di più mi verrebbe da dire forse qualche volta vista la pavidità nel prendere posizione su certe questioni ci abbiamo pure qualcosa di meno se posso gli editori sono imprenditori molti dei quali quotati in borsa quindi quello è poi sai non è l'ultimo velo ce ne sono prima di veri da squarciare e il problema è che stai all'interno stai all'interno di un mondo che non è assolutamente coeso da nessun punto di vista nel senso che ognuno ormai a differenza di vent'anni fa esistono esistono solo gruppi di spinta e di potere all'interno anche del mondo degli autori che sono estremamente frammentati la mia idea è di uscire fuori dal punto di vista però delle narrazioni dei contenuti cioè cominciare a raccontare altro avere la possibilità avere il luogo per raccontare altro all'interno secondo me hai sicuramente ragione ma secondo me è una battaglia diretta guardia nel senso che è persa noi dobbiamo uscire non stare dentro aggiungo semplicemente una cosa io penso che già l'idea di costruire coalizioni sia una cosa importante cioè uscire dall'individuismo oggettivo del tipo di lavoro che si fa ma anche soggettivo in termini di postura che si ha nei confronti del proprio lavoro sia già un qualcosa di molto importante cominciando a far questo sicuramente si possono scardinare alcune dinamiche riprendo quello che si diceva prima in uno specifico comparto quello dei lavoratori dello spettacolo dove l'individualismo era come dire la cifra dominante anche il modello per tenere più basso il costo del lavoro questa cosa non dico che è stata come dire stravolta ma si è cominciato un percorso in cui si è cominciato per colpa e grazie alla pandemia ad invertire questa dinamica e sta producendo secondo me dei miglioramenti collettivi a bozzi di riforme in qualche modo strumenti per contenere la continua riduzione del costo del lavoro sono stati messi in campo semplicemente perché i lavoratori e le lavoratrici hanno cominciato a ragionare in maniera collettiva a uscire fuori dall'individualismo a costruire forme di coordinamento stabili strutturate che si stanno dando una serie di obiettivi di campagne di aiuto reciproco con strumenti di mutualismo e iniziative sulle questioni più politiche più generali che riguardano il settore ma anche alle singole situazioni lavorative in cui si trovano a vivere secondo me già questo sarebbe un meccanismo importante io spero che con questo dibattito si possa cominciare a costruire a livello anche nazionale un ragionamento sull'auto organizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici nel mondo della cultura più ampio ma io intanto ringrazio Massimo ringrazio Luca ringrazio tutte le persone che sono intervenute non vedo altre mani alzate quindi direi che possiamo andare verso non la conclusione assolutamente perché non si conclude questo non può essere un dibattito che si conclude mi viene in mente sulle ultime battute che facevamo il concetto negriano di esodo esodo non come altrove ma come altro perché a volte si fraintendono le cose ma poi appunto la costruzione dell'altro che è una costruzione ovviamente che costa lotta costa fatica costa rinunce ma costa anche costa nel senso buono e anche fatta di gioia perché poi il punto è quello dobbiamo fare le cose dobbiamo fare le lotte per vivere meglio e per essere poi felici di quello a cui aspiriamo e delle cose per cui lottiamo sono stati tanti gli spunti me ne viene in mente solo uno ci tenevo a sottolinearlo perché hai posto massimo dentro il dibattito il tema della comunicazione io sono molto d'accordo e sono molto d'accordo sull'accenno che facevi al rapporto tra narrazione e contenuti su questo io ci terrei a dire una cosa noi viviamo da due anni dentro una violenza narrativa che ci impone il dualismo ci impone la dicotomia la polarizzazione la questione del covid negazionismo contro invece un covid perenne sulla questione del vaccino io credo che proprio in questa fase abbiamo l'esigenza di costruire con tante forme con tanti mezzi un discorso altro e qua torna sempre altro altro esodo ma credo che sia questo il punto di costruire un discorso o un discorso altro che magari ponga l'accento su alcuni elementi davvero di critica nuova e innovativa questo lo dico in un in una accezione più generale ma anche sui temi importanti di cui abbiamo trattato stasera io vi ringrazio ancora grazie Massimo grazie Luca e credo che un applauso a tutti e due per questo dibattito che conclude una bellissima giornata prima mi rimproveravano che avevo il telefono in mano giustamente in realtà ce l'avevo semplicemente perché ci tengo a dire con precisione gli eventi di domani perché lo Sharebooks Festival non si ferma non si ferma oggi domani sarà una giornata molto ricca di appuntamenti partiamo alle 12 con la presentazione di La Dorsale l'anno del ferro di FQ edizioni con Maria Grazia Belli autrice alle 15 presentiamo Cesco e il grande tossico edito da Fandango Libri con Luca Pakarov alle 17 la presentazione di Conoscere il vino a fumetti un bellissimo libro di Becco Giallo e alle 18 e 30 abbiamo la presentazione di un libro che tra l'altro parla di alcune di queste cose che abbiamo trattato oggi che complotti da qui e non alla pandemia cronache del mondo dal mondo scusate capovolto con Leonardo Bianchi autore poi avremo un live della band Fuori dai Denti semplicemente l'ultima cosa visto che ci sono tante persone siamo molto felici di questo venerdì prossimo Sharebooks continua abbiamo la presentazione di due libri due libri tra l'altro scritti da due compagni che affronteranno il tema delle comunità indigene dello zapatismo che sono comunque temi ancora estremamente di attualità quindi abbiamo la presentazione dei libri Economia Comunitaria Indigena e il libro Il Sistema Educativo nella Resistenza Zapatista venerdì 4 febbraio al Centro Sociale Pedro a cura dell'Associazione Iabbasta grazie a tutti e tutte ci vediamo domani Grazie 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 Grazie